Ed è partita la finale ed è subito Sorcioluovo che si porta in testa, seguita da Lampitelli. Sorcioluovo, Lampitelli, poi Cognini, poi Biondi. Sono ancora lì tutte insieme con Sorcioluovo davanti a Lampitelli, Cognini, Biondi. Al passaggio, suono della campana, ultimo giro di questa 500 metri con ancora Alice Sorcioluovo in testa alla gara, seguida da Lampitelli, poi Cognini, poi Biondi. Sorcioluovo, Lampitelli, Cognini, Biondi, sono Biondi. E poi Sorcioluovo davanti a Lampitelli e poi Cognini. Alice Sorcioluovo.